Rossana Titone Sì, un tema che sta molto al cuore credo a tutta la cittadinanza ed è quello anche del decoro pubblico e del decoro urbano perché non me ne voglia nessuna attività commerciale ma noi soventemente vediamo costantemente allestire pedane qualunque tipo di deors senza tenere conto invece della struttura anche che c'è attorno alla città, delle bellezze architettoniche spesso vanno completamente a contrastare quindi mi chiedo se c'è una prospettiva, una visione in tal senso e poi mi riaggancio alla domanda di Elio Licari perché Marsala sta diventando purtroppo e balza alle cronache per atti violenti contro anche purtroppo ragazzi di colore qualcuno è rimasto ferito e non in ultimo l'altro sabato notte credo quindi il problema della sicurezza è un problema sentito da tutta la cittadinanza indipendentemente ovviamente dal colore della pelle quindi mi chiedo se ci sarà anche lì una visione concreta però non solamente di facciata e a parole e poi un'ultima domanda politica mi chiedo, è una coalizione molto ampia fatta di nove liste tra queste ci sono tre partiti fra cui Fratelli d'Italia e mi chiedo perché la lega no quando insomma i principi proseguiti a livello nazionale da Giorgio Meloni sono poi presto a poco quelli uguali a Matteo Salvini io credo che questa programmazione pluriennale mettendo ordine e quest'ordine vale un po' per tutto anche per quello che diceva Elio Licari noi abbiamo bisogno di mettere ordine in questa città sembra che siamo in un far west anche per quello che riguarda la sicurezza ciascuno fa ciò che vuole non solo, parlavamo l'altro giorno con Enzo Sturiano c'è anche il rischio che si perde il controllo cioè a volte sembra che le istituzioni perdano il controllo del territorio della gestione della sicurezza del territorio perché arrivano dei soggetti magari inebriati da sostanze stupefacenti o da alcol e a volte non riconoscono nessuno e diventano anche violenti allora come poter fare? l'ho detto poco anzi, ci vuole coraggio ci vuole un coraggio di una guida forte, autorevole con una forte legittimazione popolare che consenta anche quando serve di adottare iniziative forti che non sono qui di destra quelli di destra, ci vuole l'esercito allora siete di destra ma vedete che tutto questo lo fa a Bari il sindaco del PD facendo iniziative molto decise anche per evitare che questi soggetti si avvicinino è una sorta di allontanamento che avviene Stefano di un allontanamento di questi soggetti che reiterano comportamenti violenti e lo si può fare per legge perché noi non l'abbiamo mai adottata questa disposizione di legge non l'abbiamo mai recepita lo si può fare occorre coraggio, me ne rendo conto ma dobbiamo attrezzarci in maniera tale da salvaguardare i nostri cittadini la Lega Rossana non c'è perché intanto ha fatto una scelta propria ha fatto una scelta autonoma la scelta di poter indicare un altro candidato sindaco e man mano che noi faticosamente abbiamo composto attorno al metodo di cui parlavo prima e al programma questa coalizione che ha anche delle sensibilità che sono distinte e distanti dalla Lega per quello che è venuto fuori e che è stato oggetto di discussione non si poteva mettere in discussione per responsabilità altrui di scelte diverse una coalizione che noi eravamo riusciti a mettere su con questa logica civica noi non vogliamo dare una esagerata connotazione non siamo politica non siamo dinnanzi alle elezioni politiche qua non si tratta di avere un seggio in più alla Camera o all'Assemblea regionale siciliana e devo dire che l'autodeterminazione che ne è venuta fuori e l'orgoglio di Marsalesi che ne è venuta fuori per poter mettere su questa squadra e devo ringraziare tutti anche le tre liste di via che hanno dovuto faticare per questo oltre ai deputati come dicevo prima e in particolar modo la progettiamo Marsala il decoro urbano forse di cui parlava Rossana ecco su tutti questi aspetti Rossana forse non c'è più su tutti questi aspetti io credo che possiamo attrezzarci e attrezzarci bene siamo motivati io sono particolarmente motivato perché anche rispetto a cinque anni fa lo confesso rispetto a cinque anni fa mi sento molto più pronto perché il lavoro che abbiamo fatto il patente lavoro che abbiamo fatto per mettere su questa struttura innovativa questo metodo di lavoro di coinvolgimento di partecipazione e soprattutto questo rapporto di fiducia con le forze politiche che hanno già indicato le loro espressioni migliori mi fa oggi pensare che davvero abbiamo un'occasione la nostra proposta la ritenete qualificante migliorativa e una speranza in più per ricominciare ripartire rialzarci e allora ripartiamo con la speranza della vostra fiducia è questo che quello che ospichiamo se non ci sono più domande io ringrazio ancora chi ci ha ospitato faremo base qui come riferimento organizzativo assieme agli altri locali di Anita che sono stati messi gentilmente a disposizione in modo tale come dicevo e ricordo